...e la simpatia umana, i sentimenti di amicizia, sono vivo Luciano Giovante da sempre, di Antonio, il magnifico lettore, quando lui ha mostrato i film Massi, il giovane studioso, al seguito di Nicola D'Amati, sono uno che non ho conosciuto, Achille Donato Giannini, perché pur essendo io sono abbastanza anziano, non sono abbastanza anziano, non ho conosciuto Giannini, però devo dire che Giannini per noi dibutaristi è stato un po' quello che è stato torrente di binatisti, di studiosi di influenza capiscono cosa voglio dire, o antonisei, di binatisti, per noi è il manuale più corretto, più teorico, Giannini è stato l'entrata del diritto dibutario nella teoria giuridica, prima di Giannini c'erano dei sintatici scultori della materia, un po' economisti, un po' ragionieri, secondo se guardavano alle imprese o guardavano al diritto amministrativo, al diritto politico, Giannini è stato un grosso personaggio perché ha sistemato il diritto dibutario e forse poi è partita poi questa scissione tra la scienza delle finanze e il diritto finanziario e tributario, anche per ragioni di carte, però devo dire ecco che poi Nicola Damati è un personaggio, c'è la fine qui presente, unico perché è uno entusiasta, è un democristiano serio, così dice, quindi è indirizzato, poi sei qui lo meno sei, ma poi ci credeva nella politica, che tra l'altro anche degli interi politici, tra l'altro anche segretario della DC Fugliese, e era uno con cui si capiva, si ragionava, io appartenevo più all'area di violante, però eravamo molto d'accordo con Nicola, poi questa scuola l'abbiamo portato insieme, insomma, direi quasi, no? Siamo molto, se questo problema, no? Le aree universitarie, le aree accademie, le aree anche di influenza, Bari, Roma, stavano una parte, in nord stavano l'altra, quindi il corso che non è da lezione magistrale, e con la solita bucezza, sensibilità, anche politica, magnifico, gli ha detto, ma paghiamo di etica delle tasse, è questo momento in cui c'è un po' di problematica a livello della moralità, si parla di corruzione, c'è questo discorso sulle tasse che sono un fatto negativo, c'è un po' ritorno ai tempi del neoliberismo e del liberismo del passato, in cui la tassa era un fatto negativo che un soggetto pagava per forza, e se la pagava, la pagava per autodidizzazione del soggetto, pagava perché il soggetto non lo pagava, e non c'è che c'erano diverse, diciamo, di tipo generale, legate alle politiche fiscali, di finanziamento del bel santo. Allora, per chi non parli bene delle tasse, io mi sono spostato a fare una lezione di questo tema, che sarà più breve di quella di Luciano, però sono forse molto sintetiche, mi sono posto il primo problema, il tema dell'etica fiscale può essere affrontato da due angoli provinciali, dall'angolo dell'ente impositore, del fisco, e dall'angolo del cittadino, quindi certo, l'angolo del cittadino è quello che concorre alle pubbliche spese, secondo l'ordine costituzionale, consapevole di osservare un dovere etico più che gli adempieri a uno specifico obbligo previsto dalla legge. L'etica c'entra in questa soluzione, questa visione del problema del contributo. Poi c'è invece il problema dell'ente pubblico, che è deputato a realizzare politiche fiscali infrontate ai principi constitucionali di sguaglianza, sia quella di primo comma, dell'articolo 3, sia un'uguaglianza come non discriminazione, sia un'uguaglianza come ragionevolezza, coerenza, cose che avete studiato in un'università per molti giovani, e solidarietà. Io, chiaro dal punto di vista dell'etica del cui il magnifico lettore mi ha chiesto, io quello di questo secondo aspetto, cioè l'aspetto dell'etica nell'ottica dell'interesse generale, del fin da perseguire, come diceva. E quindi con questo, diciamo, obiettivo dovrò parlare, come premessa generale, di quella che è la funzione del tributo in un contesto, diciamo, costituzionale e nella società. Ora, quando mi sono messo a scrivere questa relazione, mi sono posto l'ottica di un cittadino italiano che, anche se magari non è credente, è stato abituato, ha studiato, con il ferimento ai principi del cristianesimo, no? Poi mi sono detto, ma non soltanto il cristianesimo, forse anche i principi socratici. Allora, mi sono preso conto che sono tutti cresciuti sotto l'insegnamento dei principi fondamentali del cristianesimo, la solidarietà, la sussidiarietà, di origine cattolica che origine, origine comunitaria e origine, diciamo, cristiana, più che larica. La garanzia del bene comune, basta che ricordate i tempi in cui studiate al liceo la filosofia di San Tommaso, chi ha scoperto, è la domestica che ha scoperto il bene comune, ottenuto il bene comune. E quindi, se siamo ultimati così, diciamo, a un conto di insegnamento, non possiamo non sentire istintivamente, in momenti specie come questi, di crisi economico-finanziaria del Paese, quindi, momenti di crisi, che cosa? L'importanza dell'intervento pubblico dello Stato che è diretto ad arrestare la sperale delle giubaglianze. Da brutto punto di vista, si può essere anche i mercatisti, si può anche essere i più liberali possibili, ma in momenti come questi, l'accento l'ha posto sullo Stato che distribuisce, sullo Stato che tenta di superare le giubaglianze, perché il mercato non ci ha mai fatto a superare le risubaglianze, e anzi, spesso ne ha prodotte i nuovi rischi. L'esperienza della crisi americana è questa. Quindi, non è necessario aver letto Socrate o essere cristiani professanti per convincerci queste necessità, non solo di accordarci sul significato di giusto, di bene, di equità distributiva. Dobbiamo anche riflettere sul fatto che deve essere rimesso a uno Stato diverso da quello del passato, uno Stato più mediatore, uno Stato distributore. A lui spetta di individuare il ragionevole disagio degli strumenti, appunto, perché una società sia più giusta, più buona e più equa in età rispettata. Io non riesco a vedere un'altra via, ma in questo momento lo Stato ancora, secondo me, è importante. Sarà pure in crisi il concetto di Stato, però il suo ruolo, in momenti in cui c'è una, si allarga sempre più la complice disuguaglianza, solo lo Stato può fare interventi in condizioni. Allora perché è importante? Perché se ci sono disuguaglianze endemiche, la riduzione di essa deve essere il primo obiettivo etico, l'impunità economica, che deve essere raggiunto da qualunque tipo il Stato, da estra, sinistra, centro, qual'è importanza la politica in questo caso? Insomma, voi non so se avete letto, conoscete un grande politologo inglese che qua ha vissuto in America, che è morto tre anni fa in una moltissima malattia, Tony Judd. C'è un bellissimo libro che ha scritto, Guasto è il mondo. Se avete il bellissimo libro, lui dice queste cose, la disuguaglianza è la vera patologia dell'epoca. Bello come l'ha detto, forse abbastanza abbastanza ovvio, è una grave minaccia al buon funzionamento di odio di democrazia e la perdita del senso di fratellanza e della coesione sociale. La fratellanza, per quanto fatua, rischiamo questa parte qua, quale obiettivo politico, è la condizione necessaria della politica. E lo dice, meglio noi, tanti costituzionalisti, in casa nostra, bellissimi parlati. Allora, dal tuo punto di vista si capisce che il tipo, come dicevo prima, è il più d'utile insieme, appesa per carità, di strumenti che ho stato a disposizione per superare queste disuguaglianze, specie quando queste disuguaglianze derivano dalle maggiori o minori disponibilità del bene della vita e quindi finalizzare i valori solidaristici. Stiamo nel campo del finanziamento del welfare state. Perché questo è importante? Perché dobbiamo far capire ai giovani che è importante la funzione del tributo, perché è vero che le politiche distributive che pregnano i più svantaggiati e gravano gli avvantaggiati, limitano le risorse di alcuni avvantaggiati o avvantaggiati gli altri, ma anche l'idea. Se però esse, questi interventi, questo è l'aspetto politico importante, hanno come effetto di medio e lungo periodo di proteggere i più vulnerabili, di migliorare la salute del paese, sanità, assistenza, di ridurre le tensioni sociali, di incrementare e livellare l'accesso ai tutti i servizi, dalla scuola al resto. Servizi fino ad ora riservati a pochi, allora è un po' nei casi che il tributo diventa, diciamo, un unico strumento che consente di raggiungere l'obiettivo di dare più equità, più sicurezza sociale e così via. Insomma, voglio dire, rispetto a quello che stanno insegnato anche recentemente a scuola e all'università, il tributo non è più, ricordate come si diceva, il premio del libertà, oppure come dicevano Hobbes e Sustain, che erano degli americani che chiamano di mora nei tempi della mia giovinezza, beh no, forse vent'anni fa, non è soltanto l'altra faccia negativa del costo dei diritti. E in un modo disuguale come questo, ovviamente in questo momento, è lo strumento non repressivo che uno Stato deve gestire, uno Stato non meramente amministrativo, non un Stato alleviatato, per fare che cosa? Per correggere le distorsioni, le imperfezioni del mercato, a favore delle cosa? Delle libertà individuali e di quelle quell'evoluzione. Questa cosa che ti dico, a te sembra tutto banale, non ti accettiamo, non è così, perché c'è una buona parte del pensiero, diciamo, liberale e anche in politica, sta a guardare i giornali, per sapere che è una buona parte del pensiero. Tutto questo è importante perché sta nella nostra cultura. Sapete chi è Ezio Manoni, voi giovani? È stato un cattolico che è stato ministro delle finanze, che era anche un professore di scienza delle finanze. Ecco, Ezio Manoni, sulla scia del codice di Camaldoli, che è del 43 del Camaldoli, quindi, e avendo letto San Tommaso, evidentemente, perché era un cattolico, c'è delle cose molto belle per far capire, per dare il senso di loro, che vi ho detto. Lui dice che inadeguato il mercato concorrenziale c'è una ineguatezza tanto ad affrontare i problemi dell'accumulazione e dello sviluppo equilibrato, problemi quindi attuali, quanto a produrre una ridistribuzione della ricchezza eticamente accettabile. E lui da questo doppio grado di inadeguatezza fa derivare quella che a suo avviso deve considerarsi l'Italia uscita dalla seconda guerra mondiale, noi riusciamo, speriamo presto, nella nostra crisi finanziaria, una delle indicazioni fondamentali d'ordine anche morale, punta su questo, in tema di politica economica e fiscale. Quindi ci vuole un ordinamento tributario che corregga gli esiti del mercato pur nel rispetto della concorrenza, non era un comunista da noi, ci credeva nel mercato, ci credeva nelle libertà economiche. Quindi ci vuole un sistema che attribuisce a un tributo una funzione di giustizia sociale e che disciplina il dovere di concorso alle spese pubbliche che fa il 53. Io qui vorrei ricordare che nel 1924, un genio del pensiero italiano che è morto giovanissimo, Pietro Gordetti, diceva delle cose che forse molti due non conoscono, che vorrei ricordare, proprio per far capire perché Bannoni era indeterminato, cosa c'era dietro Bannoni, prima di Bannoni? Ecco, nel 1924, Gordetti diceva questo, in Italia il contribuente non ha mai sentito la dignità di partecipare alla vita statale, il contribuente paga bestemmiando lo Stato, non ha la coscienza di esercitare pagando una propria funzione sovrana, l'imposta gli è imposta. non mi sembra che questo è il 24 discorso che molti fanno anche adesso. Però voglio dire che questo discorso di Bannoni, che quindi può essere imputato a Bannoni e che ha avuto un seguito nel bellissime parole, ma non so più a fargli perdere tempo a leggervele da parte del cardinale Carlo Maria Martini. Martini era in puntoria perfetta con Bannoni. Hanno portato anche ad avere un pensiero, diciamo, in termini anche di cristianità, in termini cristiani che si ammetto a me era la vanguardia. Cosa diceva? Perché il bello di Martini, qual era? che pur essendo un prete, pur essendo un cardinale, ragionava come un uomo pubblico, ragionava nell'ottica dello Stato, del bene, guardando al bene e al bene comune di un capito. Per lui non è che parlava del dovere di un cristiano di pagare perché era peccato. Lui parlava come uno che guardava allo Stato come entità. Guardate cosa diceva Martini. Il tributo è da considerare un concorso attivo al processo di formazione e redistribuzione delle risorse, grazie alle quali promuovere i beni e i servizi della condivenza civile. In quanto parte della società, dice il cardinale Martini, e conseguentemente in nome della coppia responsabilità per il bene comune, ogni soggetto contribuente è chiamato a dare l'apporto da lui dovuto insieme con gli altri contribuenti, facendosi carico delle ragioni, dei bisogni dell'intera collettività e dei mezzi con cui soddisfarli. E più parlava un altro discorso appunto in termini di imprescindio morale. Ma la cosa che mi ha colpito molto, che mi ha quasi disfusmato quando mi occupavo qualche anno fa di questi problemi, è che ho notato una totale convergenza dal pensiero cattolico e cristiano e dal pensiero naico dei filosofi e qualitaristi del dopoguerra. Se voi andate a leggere e leggendoli perché vale la pena, John Rawls, il filosofo della giustizia, Krugman che scrive spesso anche su Repubblico, visto che è un bello nobile che è molto attivo come giornalista, Ronald Gorkin che è morto ma non pochi mesi fa, è un cattolico come a Mattia Senna, che è cattolico e cristiano, ma in questo più vicino l'ordine della giustizia a Ronza e questi altri, si dicono delle cose, le leggo che sono molto interessanti, anche perché spero non ha tempo di essere avvalutati lì. Noi dicono che al centro si deve essere la giustizia distributiva e giungono la conclusione tutti insieme, anche se per die diverse, che il tributo, questo è molto piaciuto, questo lo dice Rawls, limita la libertà, per carità, limita i diritti proprietari e la stessa potenzialità economica dell'individuo è inciosta indubbiamente un sacrificio individuale. Per aumentare però la libertà stessa e il godimento dei diritti è inciosta la funzione promotrice del tributo medesimo nell'ottica dell'eco di parto, detto prima, e nell'etica della responsabilità. Si capisce quindi che nell'ottica di questi autori, chiaramente questi due laici, questi due laici che ci dicono, è l'uguaglianza che sta al centro di tutto e quindi è sull'uguaglianza che si fonda la rifittività etica dello Stato, che se lo Stato pretende che i cittadini di rispettare le leggi, poi lì non può rimanere così in uno Stato che non si muove. Deve a sua volta essere coerente con quello che chiede e quindi dare e qui deve essere un vero spedico, non come fatto oggettivo, ma come soggetto che si muove per fare investimenti pubblici, sociali. Il discorso, vedete, porterà a fare riflessioni sulla recente presentenza della Corte Costituzionale sui criteri, sul bilanciamento ai diritti sociali. Stiamo avvicinandoci ai diritti economici e ai diritti sociali. Quindi, se dobbiamo dare una definizione etica del tributo, dobbiamo prendere atto di un passaggio dallo Stato liberale, liberista, semplicentesco, semplicentesco. L'evoluzione che vi ho detto della nottone di tributo, in senso solidaristico e distributivo, non consentono più di valutare sul piano etico, morale, come dicevo prima, il tributo non è più possibile che sia una mera autolimitazione soggettiva. Non possiamo essere fermi, lo diamoci nei nostri studi di filosofia, dicevo, no? E fermi a Locke. Locke è stato un giusto importantissimo, perché era la reazione dei liberali verso il potere del re, del monarca, per grazia divina. Per cui, allora, il monarca era padone anche dei segni della clezza, e quindi la proprietà non c'era perché era del sovrano. Locke ha fatto un grosso passo a grande, ha detto che la proprietà andava a identificarsi con la persona che soggetto, in quanto proprietario, aveva una sua dignità. E poi dopo ha avuto chiunque, c'è stato tutto il resto, e noi siamo in questa fase. Cioè, voglio dire che i diritti economici, i diritti proprietari, non sono, come molti ancora dicono, preistituzionali, non vengono prima della legge. È la legge che li conforma, li organizza, li coordina, e possono anche i diritti economici, i diritti proprietari, che vanno rispettati per carità, dice la nostra Costituzione, anche se è la seconda parte, hanno rispettati il loro nucleo essenziale, ma possono essere anche unitati attraverso il tributo, se il fine che si persegue è il fine, appunto, il finanziare e i movimenti sociali. Ve l'ho molto sintetizzato, perché il discorso sarebbe molto più lungo, ma mi sembra che sia chiaro il discorso sulla funzione del tributo dell'autorismo. Questo cosa significa? Una cosa importante, che è la conquista del pensiero juridico in questi ultimi anni, dal punto del diritto pubblico. Questo significa che giustizia e ingiustizia, mettiamo nella passazione, ma anche nella pesa, dovrebbe significare giustizia e ingiustizia in un sistema legale, convenzionale, di diritti proprietari, diritti economici, diritti dei tributi, potere di imposizione, quindi il regime legale della passazione, insieme ai diritti economici, crea il sistema. Non c'è qualcosa che viene prima o che viene dopo. quindi, io vi domando, anche politicamente per su quelli che ancora invece sono in termini diversi. se così non fosse, cioè se la legge non fosse essa a dover bilanciare la legge, non il diritto, la politica può sbagliare, ma tocca alla politica bilanciare i diritti sociali con i diritti economici. se non avessimo questo sistema, noi non coloremmo forse ancora il rischio di degredire a un modello precedente, a un modello precedente alla rivoluzione francese. cioè, se non avessimo questo che vi ho detto finora, avremmo una società senza coesione sociale, senza considerazione dei rapporti interpersonali, avremmo una scarsa, quasi nulla formazione di capitale umano. guardate che importante il tributo, l'arquista distributiva in questa ottica. dobbiamo avere una visione globale di insieme, la spesa, il tributo, i diritti, che deve essere il Parlamento, la politica, a dover poi dare un senso. per lo ci riesca, è un altro discorso, ma non tocca né ai giudici, né a noi, e noi col voto possiamo sfidere, cambiare il stato delle cose. allora, quale situazione avremmo oggi? di quale libertà godremmo? se attraverso l'intervento pubblico non si fosse promossa l'equità di quelli che gli economisti chiamano lo scambio di Stato. insomma, non per nulla negli ultimi vent'anni i grandi pensatori hanno posto l'accento i diritti presi sul serio. Isaia Behring, Substance, questi grandi, almeno quelli per cui mi sono ispirato da ragazzo, l'hanno fatto i miei studi, hanno puntato l'accento su questi aspetti, questi aspetti del contemporaneo. allora, proviamo adesso, arriva la conclusione, la conclusione. e tutto questo c'è nella nostra continuazione, tutto questo c'è nella nostra continuazione, ed è molto chiaro, è molto più leggendola letteralmente di come si possa leggerla dopo tanti anni che è stata applicata. perché la nostra costituzione, i diritti economici, con i proprietari, come volete, intesi non più nel senso romanistico o del nostro codice civile come dei diritti assoluti, ma come strumenti dell'autonomia privata, con la differenza che l'hanno spiegato, l'università, la proprietà nel diritto politonale, la proprietà del diritto del codice civile. non sono questi diritti economici un limite alla legge, è essa la nostra costituzione che li qualifica, li riconosce, li determina i contenuti. quindi, andate a leggere nell'articolo 42 della Costituzione, addirittura la nostra costituzione, più di quella tedesca, più di trattati europei, parla di funzione sociale come condizione. l'ho dovuto ridicare questa introduttore dell'articolo sociale, perché se voi andate a studiare in un'università europea, vi diranno che il limite alla proprietà c'è, ma per interesse esterno, interesse pubblici e generale, interesse interno, quello da funzione, nessun, nessun, né la cegu, né la cartaginizza lo ha previsto. noi siamo, dal punto di vista, un po' più adeguati, un po' più adeguati, un po' più adeguati, ma io vedrò che cosa succede, quando la cegu di dentro la parte integrante della carta giusta, ma so cosa cosa accadrà. Quindi dicevo, tutto distruzzo significa che, dal punto di vista costruzionale, uno strumento fiscale, uno strumento di compressione degli equilibri economici con il rispetto dei grandi principi dell'uguaglianza, della coerenza e della ragionevolezza che tu insegni ai due ragazzi, tutti i giorni all'università. Ora, perché ho voluto ripetere questo? Perché tutta questa problematica, tutte queste vicende che si sono prodotte in termini interpretativi della costruzione, chi ha vissuto le vicende politiche le può aver toccate con mani anche sulla propria pelle, per chi è contribuente e operato. Perché? Che è successo? La legislazione ordinaria si è mossa, in questi ultimi 40 anni, ciclicamente, verso l'estringimento, a volte, e a volte verso l'estensione dei diritti civili e sociali, a volte ampliandoli, a volte riducendoli, in questi ultimi anni un po' riducendoli, perché il fiscal compact, l'entrata nella Costituzione, l'articolo 81 come sesto con della regola del pareggio di bilancio, ha portato a dare maggior valore al pareggio di bilancio rispetto ai vincoli economici, rispetto ai vincoli sociali, ma è stato spettato, è stato spettato, è stato spettato o meno, non è stato spettato, non è stato spettato. E lo strumento fiscale è stato lo strumento per fare queste politiche. Ora, a me cosa interessa in questa sede universitaria? Che tutto questo ha dato luogo a fenomeni di crisi fiscale dello Stato. Anche qui penso alla mia giovinezza, al libro che ho come sulla crisi fiscale dello Stato, sotto il profilo a volte dell'eccesso della spesa sostenuta dai diritti sociali, a volte della carenza delle entrate finanziarie e finanziarie funzionali, sia a volte, diciamo, della maldestra gestione da parte dei governi e del sistema diputato. Però tutto questo a noi interessa, non dobbiamo pensare che ha messo in crisi l'impianto costituzionale che il nostro Paese si è dato, che funziona a livello astratto, che quello che vi ho detto. Insomma, io vorrei dire questo per finire, e questo sono in sintonia con Luciano Dolanzi, che gli eccessi e le carenze del legislatore sono soltanto frutto delle scelte politiche, più o meno azzardate legate alla contingenza economico-finanziaria e non la conseguenza patologica e permanente della correlazione necessaria che la Costituzione fa tra spesa sociale e suo finanziamento attraverso tutto. c'è la tendenza a far pensare, invece, che da un'esplicata Costituzione anche sotto questo profilo. E in parte con una costruzionalizzazione di disparito di bilancio questo passaggio non si sta facendo. Allora cosa vuol dire, per concludere, come prima conclusione? Che spetta soltanto alla buona, tra virgolette, politica, quella che io chiamerei la politeia nel senso greco, di comporre il conflitto tra i diritti individuali di protezione dello status quo, i diritti monetari e i diritti sociali che diventino invece una maggiore redistribuzione fiscale per le risorse. Ecco, su questo aspetto io vorrei chiamare la vostra attenzione che proprio su questo problema di comporre il conflitto abbiamo avuto in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, diciamo, degli esempi di contraddittorietà che vengono da come la manovra di finanza pubblica si è snodata in questi ultimi anni. Perché abbiamo avuto la Corte Costituzionale che ha emesso due sentenze, la 10 e la 70. Una, abbiamo avuto un convegno parbale sulla roba in tax, la tax tradicata in costituzionale ma con effetto da giorno successivo alla complicazione. E l'altra sulla pericazione pensionistica. Due sentenze, una presso l'altra, sono mossi in senso completamente contraddittorio. L'una nel senso di dare rilevanza ai problemi macroeconomici, al paletto di bilancio, quella sulla roba in tax. Chi l'ha seguita sa, ha detto che questa imposta era in costituzionale, che violava l'articolo 3, ma contemporaneamente ha detto che ragioni macroeconomiche che la stessa Corte ha individuato e quindi ragioni legate alle politiche del bilancio degli anni passati, gli anni dei governi, dovevano indurre a forse il problema del pareggio di bilancio e quindi a far prevalere, nell'articolo 81, gli iddi sociali. Invece per le pensioni appunto ha detto che bisognava adeguare certe pensioni minimi al senso di derivare. E tutto questo qui perché l'ho più avuto riconoscere? Tanto perché ho fatto il Presidente della Corte per due anni e io non la penso così, perché è pericoloso dare alla Corte e quindi ai giudici il potere essi di bilanciare i diritti sociali con i diritti proprietari. È il Parlamento sbagliando o no che deve fare il bilanciamento. La Corte deve soltanto di derivare se è ragionevole o non ragionevole, se l'articolo 3 è violato o meno. Non può esso sostituirsi e dire, andare a indagare, anche perché non ha anche un filo studio, insomma, per vedere se certi effetti economici si risolvano perché ci sono. E allora il discorso finale che dovremmo poter fare è il seguente. Il dibattito politico, il sentire comune dei contribuenti dovrebbe essere spostato da problemi tipo, quanto di ciò che è mio, lo Stato può prelevare sotto forma di tributo, quanto di ciò che è mio può prelevare, a fine della spesa pubblica, a problemi tipo come attraverso quale via le leggi dello Stato, in cui se quelle fiscali, ma tutte le leggi fiscali, possono ragionevolmente determinare ciò su cui devo contare, come mio, potete capire la differenza, la proprietà come diritto preistituzionale e la proprietà come diritto comprovato. E allora questo cosa significa? Un'ultima cosa, e ho finito, che tutte le strategie, seppure apprezzabili, fiscali, dirette alla riduzione del vendito, perché stanno tutti quanti valorevoli, non sono mai conuti anche, che sono un po' di poento, un po' di pensioni dopo, quindi si parla, tutte queste apprezzabili strategie non devono essere adattate, adottate solo per, ricordate la frase, stabili in debito, affamare la bestia, cioè io affamo la bestia così spendo di meno. Non deve essere la riduzione strumentale alla spesa, alla spesa. La spesa, secondo me, ancora, è pubblica, è importante, è sacra, ci connota rispetto agli africani, rispetto agli altri stati, agli altri paesi, è cruciale ai fini della realizzazione di una guerra per chilometri. Quindi non possiamo troppo spingere ai fini della riduzione della spesa sulla demografia, sulla sanità, sulla sicurezza, il che significa che la spesa pubblica va contenta, va rivalizzata, va razionalizzata, ma solo perché eccessiva e inefficiente, non perché ce lo ripone il fatto che non abbiamo le entrate. E anche la riduzione fiscale, certo che eccessiva, ma va ridotta in dipendenza della riduzione della spesa, della sua ripartizione, della lotta all'evasione. Non si riesce poi a questa regola, credetemi. Ho finito. Grazie. 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 Grazie.